Musica Effettivamente partirò da una domanda che voglio porre a tutti voi che introduce il tema del tavolo che io gestisco che è Consumer to Business, quindi un cambio di prospettiva. La domanda è questa, che cosa fino ad oggi noi abbiamo perso tutte le volte in cui abbiamo venduto il nostro prodotto? Ciò che noi abbiamo perso è il controllo su quel prodotto che fosse un semilavorato, che fosse una componente che fosse un prodotto finito business o fosse un prodotto finito consumer noi vendendolo abbiamo perso il controllo su quel prodotto nel senso che non abbiamo più saputo che uso ne è stato fatto sapevamo magari dove veniva incorporato speravamo che venisse usato per le modalità per cui era stato progettato ma non sapevamo realmente come sarebbe stato utilizzato eppure il nostro prodotto noi lo facciamo qualunque esso sia business, consumer, non ha importanza, qualunque esso sia noi lo progettiamo e lo produciamo per generare benefici e questi benefici si generano dopo la vendita quando quel prodotto viene utilizzato dall'utilizzatore che a volte non è nemmeno il nostro cliente ma dall'utilizzatore che cosa allora guadagneremo se noi potessimo essere presenti in quel momento quello che nel marketing chiamiamo la user experience l'esperienza di utilizzo del prodotto finito in cui è incorporato la nostra componente in cui è incorporato il nostro semilavorato del prodotto finito che noi abbiamo generato in tutte queste situazioni cosa possiamo guadagnare? possiamo guadagnare una prospettiva che è straordinaria perché possiamo capire in primo se effettivamente ciò che abbiamo progettato poi genera quei benefici per i quali lo abbiamo progettato e questa è la prima cosa, forse è la cosa più banale ma poi possiamo anche immaginare tutta una serie di altri servizi quelli di cui ha parlato Antonio prima servizi di maintenance, possiamo fare delle previsioni possiamo fare tante cose noi entriamo nel momento di utilizzo del prodotto cosa possiamo fare è il tavolo di cui si occuperà Alberto cosa invece faremo nel nostro tavolo nel mio tavolo il consumer to business sarà un qualche cosa che viene prima cioè come possiamo raccogliere questi dati queste informazioni sull'esperienza di utilizzo non possiamo raccoglierle to cure se non predisponiamo il nostro prodotto per raccoglierli questi dati quindi primo se non lo sensualizziamo ma non basta sensualizzare il prodotto il prodotto sensualizzato in realtà non ci restituisce tutti quei vantaggi che ci può invece restituire un prodotto che noi abbiamo chiamato digital first potete anche chiamarlo digital by design se volete un prodotto che è concepito in maniera diversa può essere anche un retrofit di prodotti che già esistono può essere un retrofit dei macchinari ma ciò che sta dietro alle spalle è un pensiero diverso cosa caratterizza un prodotto che ci permette di entrare nel momento di utilizzo per poi ottenere tutta una serie di informazioni che possiamo valorizzare con value proposition che vedrete al tavolo value from data allora questo prodotto sicuramente deve sentire quindi deve avere una capacità di raccogliere dati sensori molto diversi che raccolgono variabili assai eterogenee ma la seconda cosa importante e fondamentale è che questo prodotto sia connesso questi dati ci possano tornare indietro questo è un passaggio fondamentale tantissimi prodotti sono già sensorizzati ma chi ottiene quei dati? a chi arrivano i dati che quei prodotti raccolgono? se non arrivano al produttore di quella componente di quel pezzo, di quel prodotto finito allora in realtà quel produttore non sta entrando nel momento di utilizzo allora è importante che in realtà quei dati ci ritornino e ci ritornino quanto più possibile in tempo reale da ogni singolo prodotto che sta là fuori che noi abbiamo venduto e che sta venendo utilizzato perché attraverso queste informazioni noi accumuliamo una conoscenza straordinaria la possiamo chiamare esperienza se volete ma è una conoscenza sul modo in cui il nostro prodotto viene utilizzato e la prima cosa che ci viene in mente è benissimo possiamo migliorare questa modalità benissimo possiamo insegnare a come utilizzare meglio il nostro prodotto benissimo possiamo disegnare di nuovi prodotti che siano migliori e più confacenti alle aspettative dei nostri clienti aspettative che noi intuiamo osservando come lo stanno utilizzando e in quali condizioni lo stanno utilizzando e la terza cosa fondamentale è che questo prodotto sia dotato di una intelligenza di un software può essere residente o può essere distante tanto c'è la connessione le connessioni sono ormai velocissime quindi non è un problema ma un software e quel software è fondamentalmente il nostro pensiero quel software rappresenta il modo in cui noi prevediamo di poter utilizzare quei dati quel software potrà apprendere Alberto vi ha fatto un esempio prima quindi sostanzialmente i software di machine learning ci dicono che noi possiamo imparare molte più cose di quelle che di primo attito non potremmo comprendere osservando il singolo dato le macchine sono molto più fra virgolette intelligenti di noi ma ciò che conta veramente è che noi quel software lo facciamo lo prevediamo e lo montiamo sulla nostra macchina o quantomeno l'abbiamo in remoto e poi una seconda cosa quando noi entriamo nella user experience noi osserviamo l'utilizzo del prodotto in contesti diversi in condizioni diverse il nostro prodotto non è mai utilizzato da solo il nostro prodotto è utilizzato perché magari è incorporato dentro un prodotto più grande più completo più complesso oppure viene utilizzato in un contesto lo abbiamo chiamato landscape di utilizzo cioè un ambiente in cui insistono anche altri prodotti il mio prodotto è in grado di raccogliere certi dati in quell'ambiente magari insistono altri prodotti che raccolgono altri tipi di dati io posso mettere insieme questi dati e quindi ottenere una conoscenza ancora migliore dell'uso del mio prodotto in quegli specifici contesti e questi dati li potrei anche vendere è un modo per valorizzare i dati allora al tavolo consumer to business parleremo di questo capovolgimento perché partire da quello che noi impariamo da quello che noi capiamo dell'utilizzo del nostro prodotto ci permette all'indietro al contrario di tornare dentro le nostre aziende di riprogettare il prodotto di affinare i processi produttivi i sistemi produttivi questo è C2B il B2C prevede che io progetti produca e poi affidi a colui che è il mio cliente il C2B prevede che io progetti produca affidi e poi osservi e torni indietro e affini la progettazione e affini i processi questo è C2B oggi lo possiamo fare le tecnologie ci sono ciò di cui abbiamo bisogno è un pensiero al tavolo parleremo del pensiero partiremo sarà lo step precedente alla costruzione delle digital value proposition perché parleremo di come noi possiamo trasformare un prodotto pensandolo innanzitutto in termini digitali grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti